Uno dei miei uomini è scomparso. Penso sia rinchiuso in una prigione chiamata Ade. Che razza di posto è? La terra dei morti. Hanno tutti informazioni che valgono milioni di dollari. Spie, criminali, uomini d'affari. Siamo considerati animali. Ecco perché lo chiamano lo zoo. Benvenuti nell'Ade. Inizio combattimento. Dobbiamo entrare e tirarlo fuori. Ho architettato un piano. Questa l'ho già sentita. Fermo! È il mio lavoro evadere dalle carceri. Conosco la struttura. Conosco le abitudini. E ho gli aiuti. Sei l'unico che può tirarlo fuori da lì. Non è alla portata di nessuno di noi. Inizia lo spettacolo. Chiudiamola in fretta e bene. Tre, due, uno. Il tempo è scaduto. Ehi, Breslin. Contento di essere tornato. Non mi piace stare all'inferno.